Bella ragazzi, Coeghiotto, 4 gennaio tra 24 ore esatte in campo la nostra Lazio che inaugura appunto la diciottesima giornata di Serie A, questo doveva essere il video dei pronostici, ma ieri sera in serata io stavo uscendo lì sul letto un po' col telefono, notizia, la Lazio sembra aver chiuso per Gonzalo Escalante. Quindi in questo video parliamo sia di questo ormai fatto, concluso acquisto della Lazio di Gonzalo Escalante dell'Argentino che arriverà però al 90% a giugno, a parametro 0 a giugno perché è in scadenza a giugno 2020 e poi a fine video vi faccio anche i pronostici appunto della diciottesima giornata. Quindi mi raccomando tanti like sotto questo video, ragazzi almeno io vi chiedo almeno 300 like perché appunto è un video completo e domani se raggiungiamo almeno 300 like sotto questo video domani vi porto il post partita della Lazio e magari un altro post partita, ok, di un'altra partita della giornata. Allora partiamo subito da questo acquisto, allora Gonzalo Escalante argentino classe 1993 appunto in scadenza giugno 2020 ed è un classico colpo di Tare a parametro 0 e in Spagna diciamo che Tare a volta ha pescato bene, se andiamo a vedere ad esempio magari Luis Alberto a volta ha pescato meno bene perché Dormisi, Johnny ancora non sta convincendo tantissimo, però in generale io questo colpo lo vedo bene, un giocatore che ci serve soprattutto poi per giugno perché le sue caratteristiche sono diciamo lui gioca nel 4-4-2 come mediano, come incontrista, può giocare anche come mezzala a destra nel 4-3 però ha buoni piedi, ha buone capacità di inserimento, ha anche l'abilità di spezzare il gioco avversario. Quindi in una Lazio, in un 3-5-2 potrebbe giocare o come vice Leiva che è un ruolo comunque che ci serve perché ok che abbiamo Cataldi però comunque Leiva avanza con gli anni, non penso che Leiva farà ancora al massimo un anno, due, Lucas Leiva non di più, o se no appunto può giocare alla Parolo perché Parolo comunque avanza con gli anni, già si parla di una successione magari a giugno, io lotterei ancora un anno però comunque serve un giocatore con quelle caratteristiche che lo vado a sostituire perché Milinkovic Savic, Luis Alberto, se dovessero restare, speriamo ancora per tanti anni alla Lazio comunque hanno altre caratteristiche. Quindi ci serve un giocatore così. Probabilmente arriverà a giugno, se Beriscia dovesse andare via già a gennaio allora potrebbe essere anticipato lo suo arrivo già a gennaio che per me andrebbe anche meglio se penso che tutti siamo d'accordo perché Beriscia è un giocatore fuori dal progetto che non ci serve, invece questo Gonzalo Escalante potrebbe dare una mano. Però comunque diciamo che più che altro ci serve in prospettiva. Nell'Eibar è capitano, 148 presenze, 10 gol e ha già avuto un'esperienza in Italia. Nel Catania, 26 presenze, un gol ma l'ha avuta da giovanissimo. A 21 anni il Catania era in Serie B, solo un gol mi pare contro la Virtus Entela, comunque non brillò particolarmente. Sapete, il Catania è il Catania degli Argentini, non è la squadra storicamente degli Argentini, di Papu Gomez, Maxi Lopez eccetera eccetera. Nel Catania non ha brillato, però nell'Eibar ha fatto veramente bene, addirittura capitano dell'Eibar. Eibar è una squadra che è salita in Liga recentemente ma sta facendo negli ultimi anni molto bene e segnò nella vittoria storica contro l'Alma David per 3-0. Segnò proprio il gol Gonzalo Escalante e diciamo l'offerta sarebbe contratto di 4 anni a 1 milione e mezzo, quindi comunque anche una buona offerta. Abbiamo battuto concorrenze di squadre della Liga come Villareal, Valencia e Marsiglia e anche una squadra forse messicana che aveva offerto di più, però lui comunque vuole restare in Europa, vuole crescere e la Lazio per lui sarebbe sicuramente un salto di qualità. Quindi io il mio parere è un acquisto veramente intelligente, poi ovviamente io il giocatore non lo conosco, non l'ho mai visto giocare perché non seguo la Liga e sicuramente non vado a vedere le partite dell'Eibar, però è un giocatore che ripeto come ruolo ci serve veramente tantissimo. Perché diciamo che a gennaio le mie priorità erano o un quarto attaccante, appunto al posto di Adecani che non sta convincendo, comunque non è ancora all'altezza, o un difessore centrale forte. Perché comunque i centrocampisti in questo momento ce li abbiamo, però a giugno le priorità sono sicuramente un esterno sinistro, perché comunque Lulic avanza con gli anni, Dormisi, Lukaku, Gioni non convincono, un difessore centrale, un centrocampista con queste caratteristiche e poi anche un attaccante. Quindi già un acquisto che diciamo già in prospettiva per la prossima stagione vuol dire che la Lazio programma, io l'ho sempre detto, la Lazio insieme alla Juve, forse la Juve più con Marotta, adesso comparati ci c'è un po' di confusione anche in casa Juve. Però è l'unica squadra in Italia, o comunque una delle poche, che programma, anche con pochi soldi, ma programma, vede lungo, ok? Siamo a gennaio, ma la Lazio pensa già comunque a occasioni per la prossima stagione. Speriamo ci sia una continuità di questo progetto, che la Lazio voglia finalmente fare il salto di qualità, alzare la famosa asticella. E questo acquisto, secondo me, è un acquisto, un nome non altisonante, però un acquisto intelligente alla illitare. Passiamo, ditemi, mi raccomando, poi la vostra nei commenti, perché ci tengo, e seguitemi su Instagram, il link è in descrizione. Ma passiamo ai pronostici. Allora, pronostici, come detto, io sto registrando questo video alle 12.20 del 4 gennaio, tra 24 ore sarà proprio in campo, esattamente, la nostra Lazio a Rigamonti, tantissimi tifosi al Mario Rigamonti, quindi la Lazio ha bisogno del nostro sostegno. Allora, match delle, appunto, lunch match, Brescia-Lazio. Io, ragazzi, un po' per scaramanzia, un po' perché non ho sensazioni positivissime, perché la partita dopo la sosta è molto difficile, vi consiglio gol, quotato a 1.53, quindi entrambe le squadre segnano almeno un gol. Poi, sempre domani, ore 15, Spal Verona, quindi sconto salvezza, Spal che si è un po' ripreso con la vittoria di due settimane fa col Torino, Verona che è un leggermente un po' in calo, io dico 1x più gol, quindi secondo me la Spal esce con un risultato positivo, ma il Verona farà almeno un gol. Quindi, 1x più gol, quotato 2.35, una quota molto interessante. Poi, sempre domani, ore 18, Genoa-Sassuolo, il Genoa la vincerà una partita, come fece Tiago Motta all'esordio, secondo me Nicola vincerà, quindi 1, Genoa-Sassuolo 1, la quota è di 2.25. Poi, sempre domani, quindi giocano entrambe le Romane, chissà che magari ci possa essere domani il post-partito di Roma-Torino, quindi mi raccomando, tanti like sotto questo video, domani, oltre al video di Brescia-Lazzo, vi faccio anche il video magari di Roma-Torino, o magari una tra Spal e Genoa, vediamo. Comunque, Roma-Torino, post-icipo serale, io dico over 2.5, penso vinca la Roma, perché comunque è nettamente più forte, però secondo me sarà una partita abbastanza ricca di gol, quindi over 2.5, la quota è di 1.60. Poi, passiamo alle partite dell'Epifania, quindi lunedì 6 gennaio, lunch match Bologna-Fiorentina, Bologna che in ripresa ha vinto nettamente con Lecce, ma c'è la Fiorentina di Beppe Iacchini, che l'ho visto molto motivato, lui è tifoso, non lo so, però penso di sì, comunque ha giocato nella Fiorentina, quindi secondo me la Fiorentina uscirà dal Dallara con almeno un pareggio, quindi io vado a consigliare x2, la quota è anche molto interessante, 1.55. Poi, Juve-Cagliari, passiamo alle partite del pomeriggio, 1.1, è bassissimo l'1, 1.25, perché comunque il Cagliari sì che ha perso le ultime due partite con noi e con l'Udinese, però comunque l'ha perso giocando bene, però secondo me la Juve vince, non ci sono molti dubbi, 1.1, la quota è di 1.25. Poi, Milan-Samp, e ragazzi, secondo me Ibra entrerà, non giocare titolare, ma secondo me entra e chissà che sarà già decisivo, ho questa sensazione, comunque io vi vado a consigliare under 3.5, una partita secondo me finirà o 1.1 o 2.1 per il Milan, quindi meno di 3 gol, la quota è di 1.30. Poi, Atalanta-Parma, sempre alle 15, partita un po' da tripla secondo me, over 2.5, vi vado a consigliare perché comunque il Parma in trasferta fa sempre bene, l'Atalanta in casa comunque almeno 2 gol, anche di più, li segna sempre, quindi over 2.5, la quota è fatica bassa, 1.45. Poi, sempre domenica, ore 18, Lecce-Udinese, allora Lecce in casa non ha ancora vinto, se non vado errato, l'Udinese mi pare si ha vinto l'ultima contro il Cagliari, quindi un pochino in ripresa, io vi dico gol, chissà che Lecce possa magari vincere per la prima volta, però comunque entrambe secondo me faranno un gol perché hanno difeso abbastanza ballerine, quindi io dico gol, quotato 1.53. E invece chiudiamo con domenica sera, scusate, lunedì sera, ore 20.45, il giorno dell'Epifania, Napoli-Inter, direi il big match di questa giornata, e io a sorpresa, a sorpresa, diciamo che molti magari non lo giocherebbero, io dico 2, secondo me l'Inter va a vincere, ok? Che il Napoli è ripresa, l'Inter ha recuperato solo senza, comunque ha ancora delle defezioni, però secondo me l'Inter andrà a vincere, magari con un po' di fatica però o 1-2 o 0-2, secondo me l'Inter in questo momento è nettamente più forte. 2, la quota è di 2.75, quindi una quota anche da rischiare secondo me perché è molto invitante. Allora ragazzi, quindi giocando queste 10 partite con 3 euro ne andate a vincere 7.55, con 5 euro ne andate a vincere 1.260 circa, io mi riferisco sempre a SNAI, lo sapete, e comunque io vi dico che se una o due partite, magari è ovvio che giocare 10 partite è difficile, se una o due partite non vi convincono le togliete comunque giocando 5 euro, andate a vincere comunque tanto. Io se vi posso dire più rischiose secondo me sono Geno Sassuolo, che io vi ho consigliato uno, comunque è rischiosa, parliamoci chiaro, e poi anche Napoli-Inter, il duo ovviamente è rischioso, comunque poi vedete voi. Signori, niente, vi saluto, vi ringrazio, like al video, condividetelo, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, primo link in descrizione, ciao ragazzi, bella!